La Juve entra in corsa e si attiva per Ramsey Le prime idee del Milan, la tentazione dellInter e i rumors di tante squadre. . Tanto tuonò che piove attorno ad Aron Ramsey, centrocampista dellArsenal a scadenza di contratto e in rotta con la società ormai da mesi, ma adesso lincursione decisiva è in arrivo perché la Juventus ha definitivamente deciso di provare a prendere il Gallese classe 1990, pedina intoccabile allArsenal da sei anni. . 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